Noi abbiamo votato no all'installazione di telecamere all'interno degli algini nido. O meglio, pensiamo che se avviene sia una necessità, sono le singole scuole che devono decidere l'opportunità di farlo o meno. Crediamo infatti che si debba investire sulla formazione, sulla selezione, su quanto avviene all'interno di una realtà come quella di un asilo nido, più che sull'idea che attraverso un controllo di una telecamera ci possa trasmettere tranquillità a tutti. Certo, un percorso più impegnativo, che implica maggiori energie e maggiori risorse, non solo finanziarie, ma quello effettivamente è utile. Se è chiaro, vorrei dirlo soprattutto ai genitori, ma anche a tutti i cittadini, noi abbiamo cuore i bambini. Siamo dell'idea che ci vogliono a sorvoglianza, per esempio sull'ingresso, su chi è in trecidio in una scuola, ma siamo ancora più convinti che la vera sicurezza nasca da un rapporto di fiducia che si costruisse giorno per giorno, non attraverso uno scarso finanziamento per acquistare poche telecamere.